Carissimi amici che ci seguite da casa, oggi il nostro saluto vi giunge da Ferentillo, antico borgo medievale nato, pensate un po', all'incirca nel 1200 e anticamente denominato Ferentum, data la sua natura difensiva, poiché venne eretto proprio per difendere l'antica abbazia di San Pietro in valle. E in compagnia dello storico Giovanni Tommassini vogliamo approfondire quelle che sono le radici storiche appunto di Ferentillo. Giovanni? Le radici storiche di Ferentillo è un borgo che viene dalla popolazione Umbra, dai Narchi, era una popolazione particolare, era una tribù molto particolare, di cui si sa poco a dire la verità, perché definirla Umbra è molto difficile oggi, visto i recenti studi che sono stati fatti su questa popolazione. Addirittura c'è chi pensa che sia l'antica tribù di Beniamino che sia fuggita dalla Palestina, anzi da Israele. Subito dopo vennero la tribù Quirina qui a Ferentillo, dopo il periodo della caduta dell'impero romano ci fu il periodo dei Longobardi, quindi lo sviluppo intorno all'abbazia di San Pietro in valle. Ma parliamo proprio di questa abbazia tanto voluta e tanto protetta, perché sappiamo che Ferentillo nasce proprio come edificazione difensiva di questa abbazia. Sì, Ferentillo, le rocche di Ferentillo nascono appunto per difendere l'abbazia, c'era stata un'incursione saracena e quindi l'abbazia pensarono bene di difendersi, quindi misero dei castelli in posizione strategica e questi castelli servivano appunto a proteggere il vero nucleo pensante di tutta la Valnerina, che era l'abbazia di San Pietro in valle. Luogo dove i nostri monaci salvaguardavano quelle che erano le origini culturali, ma non solo, anche per la sopravvivenza della comunità, autoproducendo prodotti che servivano appunto al mantenimento della popolazione. Ma approfondiamo un po' questo discorso Giovanni. Sì, l'abbazia di San Pietro in valle appunto era il centro pensante proprio della Valnerina, era qui che fu pensata la bonifica della valle subito dopo l'incursione barbariche e quindi le coltivazioni, ma la cultura, ma la conoscenza e quindi veniva tutto coltivato qui. Qui si coltivava un'altra cosa molto importante, si coltivava il potere, perché qui c'era il posto del potere. Era l'abbazia che stava alle spalle di Spoleto ed era golei a cui era demandato il compito di proteggere le spalle a Spoleto. Se si pensa a Ferentillo, si pensa ad un luogo legato sia all'agricoltura ma anche alla pastorizia e di Flaminia. Perché si parla di Flaminia? Perché la Flaminia transitava esattamente a 500 metri da Ferentillo in linea d'aria, transitava sotto il paesino di San Mamiliano che si trova qui sulla collina. Lì era il vecchio tracciato della Flaminia, una strada che univa questa valle con Roma. Si dice che addirittura furono dei pastori Umbro-Sabbini che fondarono Roma. In questa via, fu fatta poi dal console Flaminio, chiaramente la strada Flaminia, qui a Ferentillo c'era un diverticolo che portava nella zona sopra di Monte Leone di Spoleto e poi portava verso la zona di Leonessa, ma Leonessa sorgerà nel 1500, sorgerà dopo. E quindi giù, passando da posta, arrivava la salaria. Era il congiungimento tra la Flaminia e la salaria che serviva appunto alle popolazioni, alla transumanza, perché fu soprattutto nel Rinascimento, fu usata molto dai medici. I medici avevano un potere qui su questo luogo attraverso una famiglia parente che si chiamavano Iscibo, erano parenti loro. Qui c'era la dogana con il regno di Napoli e su questa dogana avveniva un sistema di tassazione molto particolare. Mentre i panni di lana che venivano dalla Toscana, questa era la via della lana tanto per intenderci, mentre i panni che venivano dalla Toscana venivano tassati a Soma e quindi praticamente contavano i somari, tanto per intenderci, i panni lombardi, i panni che venivano invece dalle altre zone venivano tassati a pezza e quindi c'era una tassazione quadrupla rispetto alle altre, oltre ovviamente il fastidio di dovertire giù tutte le pezze, contarle eccetera. Questa lana poi veniva introdotta nel regno di Napoli perché veniva evitato la costa in quanto c'erano i pirati barbareschi, veniva introdotta nel regno di Napoli attraverso un paesino che si chiamava Santo Stefano in Sessanio. In questo paesino d'estate c'erano 120.000 pecore e qui si prendeva la lana e si portava a Prato. A Prato veniva mescolata con la lana inglese e con la lana belga e in questa maniera veniva fatto il panno toscano. Quindi un paese come questo Ferentillo che rappresentava un punto di snodo tra la Toscana, l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio. Esatto, lei immagini che all'archivio di Stato di Terni c'è una sezione dedicata ai notai ferentillesi perché un luogo come questo era pieno di notai che sembrerebbe strano. Lei immagini che la sezione di Ferentillo è più del doppio degli altri comuni limitrofi messi insieme. Quindi questo ne dice il volume degli affari che giravano qui a Ferentillo. Abbiamo visto tre roccaforti venendo qui a Ferentillo. Come facevano a costruire queste fortezze, queste altezze senza avere i mezzi che abbiamo oggi? Beh, allora c'erano i muli e soprattutto la manodopera costava molto meno rispetto a quella odierna. La rocca del precetto soprattutto è la più importante perché vede, se lei va sulla cima di quella rocca, lei vedrà esattamente il castello di Narni, la rocca di Narni. Infatti andando alla rocca di Narni e guardando verso la Valnerina appare immediatamente il castello del precetto. E quello era il punto di segnalazione. Quando da Roma arrivava il pericolo dal castello di Narni mandavano i segnali che venivano letti immediatamente qui a Ferentillo e dopodiché attraverso la montagna, attraverso una serie di torri inviati a Spoleto. Quindi quando da Narni, quindi con due giorni di cammino, arrivava il pericolo, Spoleto lo sapeva con due giorni in anticipo. E se vogliamo abbiamo una curiosità su un paesino che si trovava esattamente di fronte all'abbazia di San Pietro in valle, conosciuto per una popolazione religiosamente un po' particolare per l'epoca e ci riferiamo al 1300, i Catari. Esatto, siamo nel 1300, da Orvieto e da Viterbo fuggono, questa setta protestante eretica, fugge e si rifugia qui in Valnerina presso l'abbazia di San Pietro in valle dove l'abbazia che allora era governata dai scistercensi che allora proteggevano questi Catari, loro si rifugiano lì. Il Papa Bonifacio VIII non ama questa situazione e allora che cosa fa? Cambia il potere qui, il luogo. E Ferentillo diventa sotto il dominio diretto di San Giovanni in Laterano, cioè il Vescovo di Ferentillo diventa il Papa. E i Catari erano considerati eretici, ma da Bonifacio VIII e da tutti, ma perché erano considerati eretici, questi poveri Catari se vogliamo? Beh erano simpatici, devo essere sincero. Loro innanzitutto non credevano nella virginità della Madonna e poi credevano appunto nella natura duale di Dio, cioè credevano Dio uomo e Dio, cioè un Dio che fosse entrato in un corpo e quindi non riconoscevano l'ascensione al cielo, cioè Dio che sale al cielo in corpo e anima. Loro pensano che il corpo di Gesù Cristo sia ancora da qualche parte fatto di carne, decisamente. Grazie Giovanni, il tuo contributo storico è stato prezioso per noi. Grazie ancora. Grazie a tutti.